La PURM di Castellalto, che ha sede precisamente a Villa Zaccheo nel Terramano, zona che per gli addetti a lavori è stata denominata Valle del Tubo per la particolare concentrazione di aziende che producono per il settore automotive tubi di scappamento, ha dato il via e la concretezza a quelle che fino ad oggi erano stati allarmi lanciati dalle organizzazioni sindacali all'indotto e alle istituzioni. Infatti la multinazionale tedesca ha deciso di spostare la produzione di uno dei progetti attualmente in casa dall'Italia alla Romania, una comunicazione che arriva al management locale attraverso una breve mail su cui si faceva riferimento alla grave situazione economica che porta la proprietà a decidere di togliere un progetto vitale per lo stabilimento italiano in Romania. Quello che sappiamo, che ho appurato anche io tramite i colleghi della Sevel di Atessa, ricordiamo che la PURM di Castellalto lavora per il 60% per i prodotti che fa Sevel, per i furgoni, per il Ducato e altre marche, il gruppo Stellantis da quello che so e che abbiamo appurato non è tanto contento di questa scelta perché comunque Stellantis riceveva il materiale dalla PURM di Castellalto a 150 km di distanza quindi adesso prenderlo dalla Romania che sono 1.400 km non è che sia tanto conveniente in più i ritardi che avrebbero, che subirebbero mentre potrebbero approvvigionarsi nel giro di un giorno dovranno aspettare una settimana. A rischio sembrerebbero esserci circa 120 posti di lavoro, per questo motivo i sindacati hanno chiesto un immediato tavolo di confronto alla proprietà ma alla richiesta i vertici aziendali hanno risposto solo con una lettera in inglese. Ci siamo anche rimasti male perché questo non è tanto bypassare il sindacato ma quando non prendere in considerazione i lavoratori. Adesso noi metteremo in campo insieme ai lavoratori tutte le forme di lotta anche pacifica ma comunque di attenzione verso questo sito chiediamo la regione in particolar modo alla provincia che si attivano immediatamente per risolvere il problema e creare un tavolo vorremmo farlo in provincia perché comunque vogliamo rilanciare le nostre vertenze come diciamo già la tempo in provincia e ci stiamo attivando per quello. Il 23 torneremo in assemblea con i lavoratori e decideremo tutti i percorsi da fare unitariamente per far sì e per far tornare indietro la multinazionale su questa scellerata decisione. Preoccupazione espressa anche dalla consulta Giovani Castellalto che chiede un intervento immediato alla politica locale e regionale ma anche di essere pronta a collaborare con le istituzioni e le aziende locali per contribuire a costruire un futuro industriale sostenibile e redditizio per Castellalto e il suo territorio.